Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare. Mannosio. A cosa serve? Mannosio ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere dell'apparato urogenitale. È commercializzato in Italia dall'azienda COSSRL. Informazioni commerciali. Titolare. COSSRL. Concessionario. COSSRL. Categoria di appartenenza. Integratori per il benessere dell'apparato urogenitale. Forma farmaceutica. Compressa. Confezioni. Mannosio. 40 compresse. Indicazioni. L'integrazione di mannosio ha indicata nei casi di aumentato fa bisogno di tale nutriente. Modalità d'uso. 1, 2, compresse al mattino. 1, 2, compresse la sera prima di coricarsi con poca acqua, evitando di bere entro un'ora dalla somministrazione. Descrizione e caratteristiche. Il D. Mannosio ha un monosaccaride ampiamente diffuso nel mondo vegetale, frutti, bacche, alberi, presente anche nell'organismo umano. Si tratta di uno zucchero non calorigeno e non diabetogenico. Senza omg. Avvertenze. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata seguendo uno stile di vita sano. Non eccedere le dosi giornaliere raccomandate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. La data discadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Allergeni senza glutine. Ingredienti di mannosio da betulla. Agente di carica. Cellulosa microcristallina. Antiagglomeranti. Sali di magnesio degli acidi grassi, vegetali, biossido di silicio. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.